Adesso passiamo ad un altro paragrafo che è quello che potremmo intitolare aggiungere item, cioè le voci ad una lista. L'aggiunta di nuove voci avviene all'interno di questa lista, all'evento click sul pulsante aggiunge item. La voce da aggiungere deve essere prima digitata nel text box tb aggiunge item mediante la tastiera virtuale. La tastiera che compare quando viene fatto click su quel controllo. Per inserire questa nuova voce viene usato il blocco add items to list che nell'esempio ha due punti di presa. Nel primo list viene inserito lista squadra che è il nome della lista alla quale aggiungere la voce. Nel secondo item il blocco tb aggiunge item.text che preleva direttamente il testo dal text box tb aggiunge item e lo inserisce nella lista. Poi subito sotto, seguendo, subito sotto ai blocchi c'è un tb aggiunge item.hidekeyboard, cioè nasconde la tastiera, la tastiera virtuale. E poi tb aggiunge item.text viene così svuotato del testo, quindi viene preparato per ospitare altro testo a successive inserimenti. List picker, lista vuota su disegna.elements to get global lista squadre, sostituisce invece il contenuto del list picker con la lista alla quale è stata aggiunta la voce. Andiamo adesso a costruire il blocco che ci serve per creare e controllare questo funzionamento. Per farlo dobbiamo andare di nuovo su aggiunge item, quindi io seleziono questa categoria, prendo l'evento when vi aggiunge item.click, cioè quando viene fatto un click sul pulsante aggiunge item, cosa deve fare? Allora, qui dobbiamo, come abbiamo fatto prima, dobbiamo andare a prendere nella categoria liste e dobbiamo prendere add items to list. Eccolo qui, lo portiamo dentro, ma dobbiamo personalizzarlo adesso perché dobbiamo aggiungere una variabile get global lista squadre, lo prendiamo da variabili e quindi get, lo prendiamo e lo portiamo qui. Clicchiamo adesso sul triangolino e scegliamo l'unica variabile definita global lista squadre. Poi subito sotto le item, cioè le voci, dobbiamo andare e prendiamo quello che si chiama tb aggiunge item.text to, eccolo qua. Questo qui invece deve avere l'incastro soltanto a sinistra, perciò ripeto, set tb aggiunge item.text, è questo, e lo vado a inserire qui dentro. Buttiamo via questo. Adesso però dobbiamo andare a richiamare una funzione, quella che nasconde la keyboard, la tastiera virtuale, quando subito dopo aver fatto l'inserimento. Quindi lo dobbiamo andare a prendere da, dunque, questo era il pulsante aggiunge item, col tb, quindi un textbox in particolare, aggiunge item, eccolo qui, perché il textbox è quell'elemento che permette di scrivere dentro e quindi questo hide ce la nasconde, dopo aver consentito l'inserimento. A questo punto però bisogna svuotare il contenuto del textbox e quindi lo andiamo a prendere su sempre textbox, aggiunge item, dobbiamo scegliere, anzi cercare tb aggiunge item.text, aggiunge item.text, di solito è più in avanti, eccolo qui, lo mettiamo qui sotto e prendiamo una stringa vuota dalla categoria text. Così viene cancellato quello che c'è prima dentro. Ancora una volta andiamo su set listbox, lista vuota su design, eccolo qui, lo andiamo ad aprire, scegliamo set lista vuota su design.elements, eccola qui, però deve avere l'incastro a destra, quindi perché dobbiamo ancora inserire i parametri che devono definire da dove li deve ricavare, cioè li deve ricavare dalla variabile global lista squadre, perciò vado su variabili e prendo un get, lo inserisco qui, naturalmente mi dà errore finché non scelgo la variabile, clicco e prendo global lista squadre. Così è finito anche questo pezzo di script.